questo è la rimessa delle ferrovie sud est questo è la rimessa delle ferrovie sud est questo è questa 668, un buco di servizio, ecco i nuovi ATR un treno fuori servizio insomma sono su una ripresa, un po' bella un po' bella Grazie a tutti Voglio vedere un mio amico di Ravenna Ciao Mauro amico Tommaso Sì sì, Tommaso Berardi Questo video è dedicato proprio per lui Grazie a tutti